Questa partita era importantissima perché chiaramente venivamo da quasi due anni, a parte una partita giocata lo scorso anno per il campionato poi interrotto per i problemi di Covid. In pratica era come se non si giocasse da troppo tempo, la squadra era chiaramente sotto pressione e voleva chiaramente dimostrare di essere all'altezza di una sfida, di una partita che per noi significa molto, anche storicamente considerando che contro i briganti, squadra decisamente forte e ben organizzata e avevamo già perso in semifinale del campionato, quindi è stato per noi importante, un test importante per vedere a che punto è la preparazione della squadra, mi ha particolarmente soddisfatto in alcuni momenti, ci sono da rivedere altre cose in altri, ma fondamentalmente un ottimo esordio. È stata una grande gioia tornare a giocare dopo tanto tempo, per noi atleti di questo sport viviamo anche un anno intero solo per giocare con le sei partite di campionato, eravamo tanto carichi per questa partita, forse anche troppo, all'inizio ovviamente eravamo un po' arrugginiti, facevamo fatica anche ad eseguire cose che prima facevamo normalmente, però piano piano ovviamente la tensione si è allentata, devo fare i complimenti alla difesa perché ha eseguito tutto quello che avevamo preparato, sono stati puntuali perfetti nel campo, abbiamo fatto tanti turnover, tre intercetti e devo ringraziare tutti i miei giocatori dal primo all'ultimo che era fuori e che sta lavorando per arrivare a livello di chi era dentro ovviamente. Purtroppo abbiamo ancora qualche difficoltà perché siamo un team che ha gente anche che viene fuori provincia, quindi dobbiamo ancora amalgamare bene il team, però la difesa devo dire ha fatto una grande prestazione, il loro attacco non era semplice da fermare, avevano tante opzioni, sono anche fisici ben messi in campo, il nostro attacco ha dovuto fare più fatica per segnare, però dai abbiamo vinto, 16 a 0, ora ho perso il conto. Li abbiamo lasciati a 0, abbiamo segnato due touchdown, un field goal, più volte siamo arrivati in red zone, quindi la squadra cede, è compatta, i Mad Bulls quest'anno ci sono.